Si riparte dai territori dove il centro-destra ha radicato storicamente il suo consenso, rimettendo il sud e le sue problematiche al centro dell'agenda politica in vista delle prossime scadenze elettorali. A sostenerlo è l'onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, durante l'incontro con i dirigenti regionali e provinciali di Fratelli d'Italia, tenuto sigiri sera a Trani. Il nostro è un partito libero da condizionamenti, ha detto Rampelli, abituato a fare le sue scelte solo dopo un serrato confronto sui territori. Facciamo un po' il punto della situazione con i nostri dirigenti pugliesi, lo facciamo per confrontarci anche in relazione alle prossime scadenze elettorali, abbiamo le europee alle porte e quindi è fondamentale per noi che siamo radicati sul territorio e che concepiamo la politica all'antica maniera, avere un confronto, crescere insieme senza imposizioni dall'alto, senza scelte che possano calare magari da Roma sulla Puglia. Dimenticare il mezzogiorno prosegue Rampelli sarebbe un imperdonabile errore da parte del centrodestra. Non solo perché comunque il sud è sempre stato storicamente vicino alla destra, ma anche perché l'Italia ha bisogno che il sud riparta. Se il sud riparte noi agganciamo l'Europa, l'agganciamo senza ombra di essere superati da qualcuno, con spirito di competizione, di collaborazione e con la possibilità finalmente di avviare una stagione di sviluppo economico e occupazionale, cosa che attendono tante famiglie. Rampelli condanna l'attuale governo a trazione 5 stelle e le sue fallimentari politiche economiche. Il centrodestra, dice, dovrà presto ritrovare compattezza ed unità di intenti per ripresentarsi agli elettori come unica e credibile guida nel paese. Abbiamo una stagione elettorale anche amministrativa perché ci sono elezioni regionali in diversi punti dello stivale. Ci auguriamo che si possa di nuovo rilanciare un progetto di centrodestra perché questo governo a trazione grillina a livello nazionale non ci convince. Non c'è armonia tra le due visioni della società che sono rappresentate da un lato dai 5 stelle dall'alto della Lega. Il centrodestra invece ha, nell'occasione delle elezioni del 4 marzo, presentato un suo progetto organico. Purtroppo non abbiamo ottenuto la maggioranza, non siamo andati oltre il 40%, ma comunque siamo arrivati primi. Nella classifica generale il centrodestra è stata la prima coalizione. Quindi per noi è fondamentale tornare a offrire agli italiani un prodotto che sia organico e che possa consentire di fare delle scelte lineari. Se si va nella direzione dell'introduzione, come stava nel nostro programma elettorale, della tassa piatta, non si può dall'altro lato proporre il reddito di cittadinanza, cioè l'assistenzialismo che abbiamo già conosciuto negli anni 70 e che ha devastato l'Italia.